Ma aspetta, ho detto, regà, ma che cazzo fate? E ho visto dietro che era passato Daniele, cioè, pensate che cazzo uno deve fa? Cioè, pure se se... Si è bloccato? No, no, stavo a notare che stavi a fa. Che stavo a fa? Non lo so, ho visto un movimento sospetto. Sto giocando con una pietrina, pensavi che mi stessi sparando una sega? No, però ho detto... Ho visto un movimento sospetto, ho detto...